cari amici una buona sera a tutti sono qui in questo parcheggio dove i mezzi pesanti sostano e guardate qua a proposito di mezzi pesanti cosa troviamo un bellissimo fiat 691n spettacolare apparentemente molto ben conservato a parte qualche minuscola traccia di ruggine sembrerebbe davvero ben conservato è un quattro assi cabina lunga guida a destra vi mostro meglio la cabina 691n guardate che meraviglia cerchi trilex qualche piccola traccia di ruggine che vi dicevo ma questo non è niente c'è ben di peggio guardate che meraviglia sponde basse fiat 691n spettacolare guardate come i vecchi camion ho già letto tante volte ma è bene sempre ribadirlo guardate come sono ben conservati e ancora marcianti dopo tanti anni rispetto ai camion moderni che si sfasciano subito fatti di plastica guardate questo questo come tanti altri ancora ovviamente circolanti che magari sono in perfetto stato anche se non sono ancora stati restaurati guardate che meraviglia io come sempre vi mostro soltanto l'esterno quello che è un po' il camion diciamo visto da fuori non aggiungo nulla nei particolari esempio sul motore che lascio a quelli più esperti di me vi documento soltanto il camion da fuori dall'esterno come pezzo di storia i particolari lasciamoli a chi veramente conosce questi camion che magari ha vissuto l'epoca e che sicuramente saprà dirci di più con questo vi saluto una buona serata a tutti da questo meraviglioso fiat 691 n ciao a tutti